Oggi abbiamo parlato di cambiamento, come i clienti cambiano, come le piccole e medie imprese devono rispondere al cambiamento e come l'e-commerce e Amazon in particolare possono aiutare queste piccole e medie imprese. Ricordiamoci sempre che al centro della nostra strategia c'è il cliente e la nostra volontà è sempre di seguire le esigenze del cliente in modo dinamico. La maniera in cui Amazon aiuta le piccole e medie imprese è offrendo una piattaforma a costi veramente bassi. Quindi la PMI italiana, grazie ad Amazon, riesce ad avere accesso a una base clienti grandissima. Si parla di milioni di clienti unici che ogni mese arrivano a visitare i nostri siti. Si tratta quindi di un investimento di marketing importante che l'azienda si trova ad avere sostanzialmente gratuitamente. Amazon mette a disposizione i servizi di logistica a quelle imprese che vogliono raggiungere il territorio italiano ma anche il territorio estero e mette a disposizione degli strumenti di marketing e di visibilità importanti. Se avete domande potete usare la e-mail cdosharing at amazon.com e saremo felici di rispondere.